Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, dalla splendida terrazza di Ortigia. Sarà dura, c'è un caldo allucinante! Viaggiatori di YouTube, benvenuti sul mio canale, nonché a bordo della mia station wagon. Io sono Grizzly, ogni domenica mattina pubblico Diario di Viaggio on the road, un vlog in cui parlo di tecnologia, ma anche di cronaca, di costume e di attualità, cercando di porre il mio punto di vista. Ma non solo, perché sono un volontario di protezione civile e quando vado a fare servizio, spesso mi porto l'elmetto con una sportcam collegata, e quindi troverete sul mio canale anche alcuni video tratti dai miei momenti di servizio, non so, di accendio per esempio. Ma non finisce qui, perché come potete vedere sulla mia auto c'è anche una dashcam, che d'altronde è anche quella che mi ha dato l'idea di questi vlog e che è stata la prima telecamera con cui ho registrato questi vlog. Questa dashcam è un silenzioso testimone con il quale vi potrò raccontare alcune delle cose più strane che mi sono successe, come per esempio l'incendio di un'auto nel parcheggio di un centro commerciale. Infatti, da bravo volontario di protezione civile, in auto oltre a una serie di strumenti come un martellino frangivetri d'emergenza, ho anche, bullonato dietro il sedile posteriore, un estintore a polvere, da sei chilogrammi, come quelli che voi avete in ufficio o in negozio. E comunque non prendetemi mai troppo sul serio, perché sono una persona fortemente goliardica. E se non mi credete, non chiedete a me, chiedete alla mia collezione di orsacchiotti di peluche. Per cui, se sono riuscito ad attirare la vostra attenzione, vi invito ad iscrivervi al mio canale, è gratuito, inoltre sarete notificati tutte le volte che pubblico un nuovo video. Ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo su questo canale. Ciao! Dimenticavo, tutti i miei vlog sono accessibili e sottotitolati in italiano.